Oggi è un giorno storico perché l'ultimo treno è passato in questa zona 35 anni fa e il Comune ha acquistato quest'area dalle ferrovi dello Stato circa 20 anni fa. Da allora tutti hanno pensato di intervenire su quest'area, oggi noi lo facciamo concretamente. È palese la soddisfazione del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, che questa mattina ha presenziato l'avvio dei lavori di caratterizzazione del terreno propedeutici alla bonifica dei 13 ettari dell'area di risulta, interessati dal progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione della sede unica della Regione Abruzzo, un grande parco urbano, dei silos di parcheggi e il nuovo terminal degli autobus. Il cronoprogramma dei lavori dipenderà dal tipo di bonifica che dovrà essere effettuata, ma una prima stima contempla una tempistica di circa 200 giorni solo per disinquinare l'area. Il progetto di base è rimasto lo stesso perché da decenni si parla degli interventi sull'area di risulta che oramai sono stati consolidati parcheggi nel lato sud e nel lato nord, un grande parco centrale, una grande piazza centrale e uno spazio pubblico a disposizione di un edificio pubblico. Con la Regione abbiamo ragionato per inserire in quello spazio destinato a edificio pubblico il palazzo regionale. Oggi abbiamo cominciato i carotaggi per effettuare la bonifica dell'area, che effettueremo all'ottimo. Il progetto tuttavia continua a non convincere le opposizioni che insieme ad associazioni ambientalisti restano perplesse soprattutto per la realizzazione del palazzo della Regione, tanto che il 12 dicembre è stato convocato un consiglio comunale straordinario. L'opposizione ha chiesto di parlare dell'area di risulta in questo consiglio straordinario, ma noi parliamo con tutti di tutto, soprattutto di un progetto che riguarda tutta la città e che da troppo tempo è atteso dai pescaresi. Quindi lo faremo con un dibattito aperto che farà capire le ragioni per cui dobbiamo velocemente realizzare quello che nessuno è mai riuscito a realizzare. Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo. Dunque i lavori nell'area di risulta iniziano oggi, si andrà avanti nonostante le opposizioni? Nonostante 30 anni di chiacchiere, questa è un'amministrazione che si caratterizza per decidere e per fare. Si restituisce finalmente ai pescaresi e agli abruzzesi un'area di 13 ettari rimasta così, abbandonata e sgovernata per 30 anni, mentre tutti si accapigliano nel decidere cosa fare di meglio e di più. Discussioni che non finiranno mai, ma questo è il sale della democrazia. Noi però ribadiamo che in questa area non verrà toccato un solo centimetro del parco centrale, del parco pubblico, del verde che era stato previsto e noi invece realizzeremo una sede regionale che farà risparmiare 2 milioni l'anno di affitti passivi. La discussione è sempre aperta e, ripeto, non si concluderà mai.